Upas, anticipazioni dall'8 al 12 gennaio, Marina e Roberto rischiano seri guai per Ida? Dalle anticipazioni di un posto al sole. Andato in scena nella settimana dall'8 al 12 gennaio 2024, si vede che Diego comincia ad avere dubbi sulla situazione di Aida e decide di vedere le cose con più chiarezza. Il ragazzo vuole partire per la Polonia con il sostegno del padre, cosa che crea seri problemi a Roberto e Marina. I piani della coppia sono sull'orlo del fallimento e temono che la vendetta di Tommaso nei confronti della madre venga smascherata. Diego segue le orme di Aida, anteprima Upas dall'8 al 12 gennaio quando Diego riceve una telefonata da Aida, si rende conto che qualcosa non va e vuole scoprirne il motivo. Il ragazzo, quindi, decide di confrontarsi prima con Marina e Roberto in modo da far capire ai due diretti interessati l'accaduto. Ma i ferri faranno tutto ciò che è in loro potere per sviare i sospetti del ragazzo e impedirgli di arrivare alla verità e scoprire cosa sta succedendo in Polonia. Marina e Roberto rischiano di finire nei guai a causa di Aida Diego però vuole continuare per la sua strada e vuole conoscere la verità sulla sua amata Aida. Per questo motivo Diego si reca in Polonia insieme al padre Raffaele per rintracciare la donna. Per Marina e Roberto è stato un duro colpo. Una volta capito cosa sta succedendo, intraprenderai una corsa contro il tempo per raggiungere la città natale di Aida il più rapidamente possibile ed evitare di essere scoperto. I coniugi ferri, infatti, rischiano di finire nei guai a causa di questa complicazione, quindi fanno di tutto per impedire a Diego e suo padre di cercare la casa dove nel frattempo è tenuta prigioniera la famiglia di Aida. Ricostruzione, Roberto e Marina hanno tradito Aida nella puntata precedente del melodramma, Aida era stata tradita da Roberto e Marina. Il mio meglio. Durante un viaggio in Polonia, l'avevano ingannata dicendole che volevano solo presentare il bambino alla loro famiglia. Ferri infatti corruppe la famiglia della donna, pagando ingenti somme di denaro per convincerla a restare in Polonia e impedirle di ritornare a Napoli. Questo fu un duro colpo per Aida, che ignara della spietata vendetta commessa dai coniugi ferri, dovette così allontanarsi dal figlio.